Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale Eccoci qui di nuovo con Monster Hunter World Riprendiamo da dove ci siamo lasciati Al momento sto registrando questo video di seguito all'altro Quindi abbiate pazienza se mi avete dato consigli, opinioni e quant'altro Però non potevo in realtà uscire nel senso che non mi ha fatto salvare la partita Al momento non so se abbia fatto il salvataggio automatico Non ci ho fatto caso però al momento come vedete è impossibile salvare Quindi devo andare probabilmente un pochino più avanti Quindi per evitare di dovermi rifare tutto ho detto vabbè registriamone un altro di seguito così almeno Siamo attrezzati, dobbiamo parlare con l'attendente Che ci dovrebbe far fare presumo un po' di pratica anche E' vero sembra solo un vecchio sgabuzzino trasformato in una stanza per i cacciatori Ma ti assicuro che non è così E' un alloggio dotato di tutte le comiaudità Troverai persino una cassa equipaggiamento per gestire le tue attrezzature Spero che non ti spiaccia cambiarti di fronte agli altri Perché avrai dei compagni di stanza Non te l'avevo detto? Ah ok Ma procediamo La stanza include un'area da cui potrai gestire il tuo compagno Feline Che in realtà si chiama Poldino se vogliamo Ed è proprio accanto al letto, comodo no? Ah un'altra cosa Se vuoi accedere all'area di addestramento chiedi a me Mi troverai sempre qui pronto a darti una zampa Lieto di servirti Allora cosa desideri patron Manolo? Grande Manolo Io vorrei fare un po' di addestramento onestamente Raggiungere l'area di addestramento? Assolutamente si Diamo un'occhiatina anche perché Devo far pratica con i comandi e tutto Che qua ci toccherà combattere come si deve Quindi è meglio attrezzarci Poi anche per quanto riguarda le armi Aia aspetta che qua già c'è una cacciara di comandi Attenzione Benvenuto nell'area di addestramento Colpisci vari oggetti presenti nell'area Per provare il set di mosse dell'arma Se vuoi cimentarti con un'arma differente Dirigiti alla cassa di oggetti Cambia l'equipaggiamento Puoi provare ogni tipo di munizioni e rivestimenti Loro utilizzo come quello di qualsiasi altro consumabile Non andrà a intaccare la tua scorta Almeno qui ci siamo Usciamo dal tutorial Vabbè questo era Concentriamoci sui fondamenti della caccia Per iniziare sfodera l'arma La spada lunga è un'arma a corto raggio Per attacchi da taglio Puoi raccogliere le forze Per incrementarne la potenza Quindi Così Le forze Possiamo Provare diretto Passo tagliente Ok Vediamo un po' di fare Le combinazioni Ah in reti Occhio Ok Poi abbiamo A fondo Va bene Poi abbiamo Le combo base Con triangolo Come se non ci fossero domani Ok E Aspetta Come per intendere Richiede Barra spirito Allora No Ho sfogliato L'altra combinazione Quindi andiamo con Tac Tac Dai combina Combina Vabbè qua possiamo Diciamo provare un pochino Come vogliamo Quindi Eh si c'è da C'è da far Pratica Come detto Quindi Questo mi sembra Stanzamente potente Come attacco Allora Lì abbiamo anche il nostro Poldino Qui cosa abbiamo Pietra R1 Usarlo come munizioni Per la fionda Ottimo Per attirare L'attenzione Dei mostri O come Diversivo Giocando D'astuzia Puoi utilizzare La fionda Per distrarre I mostri Ok Non so Se mi Vediamo un pochino Se Ci da Altre indicazioni Qua possiamo Arrampicarci Magari c'è Dell'altro Da Spippolare Non credo Onestamente Va bene Possiamo scendere Aia Se non sbaglio Si sta anche Scassando Un pochino Questo qui Scassando Ci fa vedere Il Danni Che facciamo Almeno vediamo Anche un po' Il livello Di danno Che facciamo Ma il fendente Questo qui È molto Repotente Ok Non so Se Possiamo Magari andare Un po' Più Sopra Se ci da Qualche Altra Indicazione O se Alla fine Possiamo Skippare R3 Andiamo A Modificare I Bersagli Qui Vabbè Abbiamo La Pozione Antidoto Razione Carne Cruda Rete Di Cattura Canna Da Pesca Spiedo Barbecue Ok Questo dovrebbe Essere Per affilare Le armi Va Bene Allora In realtà Non So Se Dobbiamo Fare Dell'altro Se abbiamo Concluso Qui Onestamente Poldino Lei ci dice Qualcosa No Poldino Non ci dice Niente Vuoi tornare Ai tuoi Alloggi Sì Direi di sì Vabbè Un pochino Di comandi Li abbiamo Visti Poi magari Durante il Combattimento Li Proviamo Un po' Meglio Allora Dobbiamo andare A parlare Con l'assistente Alla Mensa Andiamo 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 Quali saranno I nostri Primi Compiti Ora che hai Che hai Accesso All'armeria E al centro Scorte Prendi quello Che ti serve Quando hai finito Passa dalla mensa E cerca la tua Assistente Per accettare Una missione Quindi volendo Ok Allora Andiamo Vabbè Ci aspetta la mensa L'avevamo Capito Quindi qui Qui è il nostro Assistente Qua Vabbè La mensa Cassa oggetti Va bene Laboratorio Qui abbiamo Il centro Scorte A questi Rifornimenti E qui Abbiamo La Non so se Era la fonderiosa E questa Bacheca delle Missioni No Questa Dovrebbe Sera Armeria E Qui non so Cosa c'è C'è anche Però Un Punto Esclamativo Quindi potrebbe Essere Anche qualcosa Di interessante Prima però Andiamo a vedere Un po' di scorte Per capire Di che Cosa si tratta Posso Vedere da qui Mi devo arrampicare Com'è Centro Scorte Ah Quell'arma Non è niente male Direi che è giunto Il momento Di acquistare Le scorte Possiamo procurarti Tutto il necessario Se ti serve qualcosa Sei nel posto giusto Sarei ben felice Di intascare Tutti i tuoi Zenni Ma Ti consiglio Di ricavare Più materiale Possibile Durante le battute Di caccia Allora Diamo un'occhiatina A quello che è Acquistabile Borsa Allora Borsa oggetti Munizioni Botte piccola Botte vuota Vabbè Al momento Acquistare robe Non credo sia utile Nel senso Prima capiamo Quello che ci può servire Arma dalla forma insolita Che torna al suo portatore Quando viene lanciata Binocolo forse Anche Questo potrebbe essere utile Fia la vuota Un po' di proiettili Secondo me le cose un po' più utili Potrebbero essere il boomerang e il binocolo Però come detto Al momento Magari temporeggiamo un pochino Cassa oggetti Se li vogliamo mandare Direttamente alla nostra cassa Presumo Presumo E Allora Lì ci siamo stati Proviamo a vedere Prima di tutto Questo qui anche Cosa ci dice Non vorrei che fosse Una missione Principale Questa Aspettate Cioè Principale Nel senso che Vado a Ho capito Stai calma Fammi vedere un attimino Di andare Alla Forgia Perché comunque Le armi Le vorrei vedere Un pochino Che Che cosa c'è Di utilizzabile Se possiamo Modificare quelle che abbiamo Come detto Al momento Siamo ancora nella fase iniziale Quindi È più Il dare un'occhiata Però Vediamo Si direi che così può andare Con un'arma Sembra finalmente Un prodigio della caccia Questa è l'armeria Qui vendiamo armi Armature pronte all'uso Se ti serve un'arma E non è il tempo Di raccogliere i materiali Noi siamo la soluzione Per te Allora Allora Possiamo vedere Anche le armature Nel frattempo Questa armatura Vabbè Quelle di cuoio Ce le abbiamo Quelle di maglia In teoria Anche Vediamo un po' Le armi Spadone Spada e scudo Credo Credo che siano No Qualcosa in più c'è Corno da caccia Doppie lame C'ha fucile Ma mi fai vedere Un pochino com'è Arco di ferro Atacco Arco da cacciatore L'arco È una gran bella figata Però Anche qui Temporeggiamo un attimino Era più come detto La curiosità di vedere L'attrezzatura che hanno Dobbiamo andare Esattamente lì Quindi credo che possiamo Tagliare anche da Da qua No penso che sia Proprio questa In realtà La strada da percorrere Quindi Ci può stare Ci può stare Vediamo un pochino Prima di andare lì Di Banco delle missioni D'accordo collega È ora di iniziare Se la gilda ti ha Segnato a me Deve esserci un motivo D'ora in poi Tu cacci E io ti faccio D'assistente Io sono il pane E tu il burro Più o meno La prima missione Della quinta flotta Prevede di esaminare L'habitat Dei Jagras Poi dovremmo eliminare Un determinato numero Di esemplari Per mettere in sicurezza L'area Se vuoi partire Non devi fare altro Che accettare La missione Jagras Della foresta antica È tutto chiaro? Cosa stiamo aspettando? Il nuovo mondo ci attende Ok Le sue meraviglie Selvagge Ok Nuova missione Le missioni Prevedono obiettivi Come l'uccisione di mostri Per iniziare una missione Dovrai prima accettarla Incarichi Completa queste missioni Per avanzare nella storia Mentre le missioni facoltative Aiuta i vari personaggi Del gioco Altri saranno disponibili Quando soddisferai I requisiti necessari Puoi affrontarle Tutte le volte che vuoi Ah quindi sono Diciamo Infinite Nel senso Un tot di volte Puoi rifare la stessa missione Taglie Sono assegnate Dal centro di coordinamento E sono disponibili Solo un numero Limitato di volte Mentre gli eventi Sono speciali Missioni riservate Al gioco online Va bene Usciamo dal tutorial Quindi Le facoltative Le taglie E gli eventi Al momento Ancora non ci sono Abbiamo il primo Incarico Come missione principale Che ci ha appena detto Ricompensa base 720 Monete Tempo limite 50 minuti Requisiti Altri mostri Aptonot Mernos Condizioni di fallimento Tempo scaduto E tre svenimenti Cliente Il comandante La comparsa Dello zoo Ha rinescato Vari cambiamenti Nel ecosistema Avvia un indagio Il territorio Se necessario Elimina alcuni esemplari Ci fa vedere anche dove Si svolge Credo di si Vabbè Confermiamo Accetta questa missione Non possiede alcun buono Scopriremo forse Dopo Cos'è Esplora liberamente A stera durante i preparativi Della missione Consumo un pasto Alla mensa Fai rifornimenti Di scorte Al centro scorte Ottieni gli ultimi Modelli di equipaggiamento Alla forgia O in armeria Quindi imposta L'equipaggiamento E organizza gli oggetti Nella cassa oggetti Partirei per la caccia In men che non si dica Controlla L'angolo superiore Sinistro Dello schermo Quando la missione È pronta Per iniziare Apparirà una notifica Ultimati preparativi Premi Ok per Attendere la partenza Puoi partire anche Premendo X Presso una delle porte Di a stera Seziona pronto Nel menu Gruppo di caccia Per partire Non appena possibile Se sei capogruppo Premi triangolo Per partire Mentre gli altri membri Sono in attesa Ok Quindi schermate la partenza Pronti a partire C'è il nostro Manolo Il gruppo È solo questo Quindi possiamo andare Partire per la missione Vabbè sì Direi che per il momento Dovremmo essere Allora Aspetta un attimo Prima fammi vedere Se a questo Arrivati a questo punto Io posso salvare Assolutamente no Ma perché Non se può salvare Scusate Partiamo per la missione Va bene Però vorrei anche salvare Onestamente Ok Tempo limite 50 minuti Vediamo D'accordo Questo è il nostro Primo incarico Riepiloghiamo i punti chiave Di ogni missione Dica Regola numero uno Completa l'obiettivo Che ti è stato assegnato Semplice no Ogni missione Ha un obiettivo Portalo a termine E la missione Verrà considerata compiuta Questa volta Dobbiamo eliminare Un determinato numero Di jagras Diamo un'occhiata Alla mappa Ci siamo invattuti In alcuni jagras Nel tragitto Verso la base Ricordi quei Mustriciattoli Sì Sì Direi di sì Se non sbaglio Li abbiamo visti Qui intorno Forse è il caso Di perlustrare la zona Ok Quindi ne dobbiamo Regola numero due Usa la cassa scorte Per ogni missione La commissione Offre ai cacciatori Una specifica dotazione Di oggetti Troverai tutto Al suo interno Dai un'occhiata E scegli cosa portare Con te Ok Procchi a partire Eh Aspetta Fammi vedere un attimo La Cassa Se ci ha dato Qualcosa di utile Beh tipo Queste qui Le andrei a prendere Così Come questo E Nient'altro che Non ho mai Fia Vabbè No Non possiamo prenderlo Ok Va bene Allora Andiamo Andiamo Sì andiamo Andiamo Allora aspetta Barra degli oggetti Ti ammelo delle 1 E scorre la barra degli oggetti Vabbè Rimaniamo con La pozione Selezionata Ho trovato qualcosa Mia Cosa ha preso Boldino Non lo so Vedremo Calcolando che noi Dobbiamo arrivare Lì sotto Se non Sbaglio Perché era la zona 2 Della mappa Prima di attaccare Le mosse disponibili Variano A seconda che L'arma sia Sguainata O rinfoderata Ok Il daglio raccoglie oggetti È spesso consigliabile Tenere l'arma rinfoderata Segnerò sulla mappa Le aree di raccolta E la posizione Dei mostri Allora Aspetta La mappa Tiene traccia Della tua posizione E della meta Stabilita dagli insetti guida Puoi usarla anche Per tracciare i mostri Ok Quindi A questo Queste che c'è Segnato qui Fatemi vedere Un attimino Sono cose che noi possiamo Eventualmente Quindi raccogliere Questa già ce l'avevamo Vediamo un pochino Muschio Eh non credo sia tutto Raccogliere Non lo so Vediamo Eh qua ci sarà anche Un sacco di roba Da Cattare qua e là Quindi Occhio a questi E Vabbè Andiamo verso L'obiettivo Dai Poi ci sarà Tempo in modo di Spippolare E recuperare Un sacco di robe Un po' di erba Così Eccomi Eccomi Arrivo Del miele E combinarlo Con una pozione Per creare Una mega pozione Ok Miele raccolto Poi vediamo come Combinare il tutto Aspetta che In realtà volevo Raccattare anche Quello Ma Allora Iniziamo Aia Ecco Iniziamo A prendere Bastonate Occhio Aspetta come Ah Con X4 Carvelona Da panico Oddio Effettivamente Non è che sia Così veloce Però sta Starm Pensavo Pensavo Meglio Venga qui Cioè nel senso Eh Ma c'è un modo Per Eh Loccarlo Se che no Sì c'era 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 Aspetta Un momento Sì però Non li abbiamo uccisi Tutti Eh Quindi Datemi un attimo Perché qua Aspetta Fammi recuperare Materiale Da ste bestie Vabbè le pietre Fungo Cerco di raccogliere Un po' di tutto In realtà Ok Che è successo Aspetta che Deposito minerario Attenzione Anche questa è fatta Provo A seguirli Andiamo giusti Sì Più o meno Nel senso Siamo ancora in zona Eccoli qua Aia però Qua sono tanti Però va bene Meno di prepotenza Vai vai Veloce Usa tutto ciò Che è la disposizione Aspetta No dove cazzo vai Ma dov'è la mia Ah eccola La pozione La presa No dobbiamo Dobbiamo tenere premuto Ok Aspetta Se me lo locchi Riusciamo a fare qualcosa Di più prepotente Però eh Momento No questi altri Tenimi lockati Questi Ma gli altri Non ho capito Se ci stanno dando una mano O se sono Ma non Stiamo Aspetta Ci sei quasi Concentrati No Dove cazzo vai Allora Stiamo di lock Un attimino Ci dobbiamo lavorare Ci dobbiamo lavorare Alla grande Eh Torniamo a casa Un attimo Perché qua Non è che questi Divano ok A posto Deve verso andate C'è già che ci siamo Aspetta Me lo locchi Per piacere No Non lo Locca più Ho preso Poldino Mi scusi Ce la faranno I nostri eroi A Stare un po' Tranquilli Datemi un attimo Ok Non è vero Sta succedendo Un macello Però con quella La stoniamo Cioè Gli stoniamo Gli accechiamo Ma basta Perché vai così Missione compiuta No però Aspetta Io devo raccogliere Delle altre Robbe Non posso Ah ci da un tempo Quindi dopo che Abbiamo completato La missione Per eventualmente Fare altre cose Vendi tutto Ricompensa Della missione Verranno inviati Alla cassa Oggetti Vabbè Io invio Tutto Al momento Poi Tempo di Completamento Sei minuti Eh no Però avrei Cioè Avrei preferito Avere un po' Più di tempo Sarò io Che non ci ho Fatto caso Però vedete Ci sono Veramente Tante informazioni A schermo Ragazzi Attacco e difesa Del compagno Aumentati Volevo vedere Anche quelle cose rosa Cos'erano Ma non ce l'ho fatta Ok Volevo prendermi Un po' più Di tempo Prima di tutto Per liberare La zona E poi per Recuperare comunque Gli oggetti Da queste bestie A quanto pare Felice di vederti Ottimo lavoro Con quei Jagras Niente di strano Per quanto riguarda Il loro habitat Ma il loro numero Sta continuando Ad aumentare Capisco Forse ti sembrerò Banale Ma i Jagras Non sono L'unico pericolo Che si aggira Da queste parti Abbiamo inoltre Ricevuto Dei rapporti Riguardanti Un gruppo Di Kenstodon Fuori controllo Deve essere L'influenza Dello Zora Magdaros Dovevamo Aspettarcelo Molto bene Il tuo compito Sarà di trovare Il branco Di Kenstodon E ridurne il numero Però Anche io Non vorrei Che ti facessi male Grazie per la fiducia E' ora possibile Partire in missione Con altri giocatori Tramite una sessione online Attiva la funzione Di chat vocale Attivare la funzione Sarà possibile Cambiare questa impostazione In seguito Nel menu Delle opzioni Allora al momento Magari diciamo di no Poi vedremo Se farlo o meno Tiene il bonus accesso Sì questa cosa Si può fare Poi eventualmente Ci salutiamo Allora la forgia Era lì sopra Adesso pian piano Mi dovrò iniziare Ad orientare Ma Ce la faremo Ce la faremo Don't worry Per quanto riguarda L'arma Pensavo fosse Più veloce Onestamente Rispetto magari A uno spadone Cos'è C'era lo spadone Devastante Forse lo scudo Più spada Era la combinazione Più immediata Però Vabbè Vediamo per il momento Vediamo la forgia Allora Cosa possiamo fare Di ritorno con i materiali Ti do il mio benvenuto Nella forgia Avrei bisogno spesso Dei miei servigi Quello che posso fare Per te E' semplice Tu raccogli i materiali Nelle terre selvagge Io li trasformo In armi o armature Passa sempre a trovarmi Quando ti imbatti In qualcosa di nuovo Interessante Tieni Voglio offrirti Questi materiali Come dono di benvenuto Puoi usarli Per migliorare Il tuo equipaggiamento Allora Usa Alla forgia Materiali Di mostro E minerali Per forgiare E migliorare L'equipaggiamento Consegna al fabbro I materiali Ottenuti Come ricompense Delle missioni O ricavati Dai mostri Per creare Nuovi equipaggiamenti E sconfiggere Mostri Ancora più potenti Ok Quindi abbiamo Migliora Ad esempio Questa attrezzatura Di cuoio È quella che abbiamo Equipaggiata Livello 1 Difesa fisica 2 A livello successivo Punto Vediamo Livelli restanti 5 Allora Ogni pezzo di armatura È caratterizzato Da un livello Usa le sfere Armatura Per ottenere i punti E far salire di livello L'armatura All'aspetto dell'equipaggiamento Non cambierà Ma la sua difesa Sarà incrementata C'è un limite Oltre il quale Un pezzo di armatura Non può aumentare Ulteriormente di livello Il numero di punti Ottenuti Dipende dal tipo Di sfera armatura Utilizzato Ok Quindi noi Ad esempio Abbiamo Una sfera armatura Questa qui Quindi possiamo fare Così Usane una Ci costa 40 E migliora la difesa fisica Fino a 40 Se ne usiamo due La migliora fino a 6 Ok Era tanto per Vedere Poi al momento Onestamente Non so se utilizzarlo O meno Vediamo anche Come funziona Per le armi Prima di tutto Seleziona l'arma Da migliorare Usa i materiali Per migliorare Armi differenti Incrementando Una serie di statistiche Se hai bisogno Di altre armi Base Da migliorare Puoi crearle Selezionando Forse equipaggiamento Da fabbro Oppure acquistarle All'armeria I miglioramenti Possono anche essere Annullati Materiali usati Per il miglioramento Ti saranno restituiti Ah no Allora Questo è interessante Seleziona un'arma Con il cursore Premi triangolo Per aggiungere Alla lista Dei desideri Quando avrai Tutti i materiali Necessari Per creare Un oggetto Nella tua lista Dei desideri Riceverai un messaggio Aggiungi armi Armature Nella lista Dei desideri Dalla schermata Forgia Equipaggiamento Ok Quindi noi Ad esempio Serie minerale Serie d'osso Minerale ferroso Per due Ne abbiamo cinque Presumo Mentre Qui cos'altro Abbiamo Gli altri livelli Quello che ci serve Allora Questa base È 297 Quest'altra 264 Così arriviamo 297 Così arriviamo A 330 Però ci servono Eh Nel momento Abbiamo quella minerale Ma questa Non la possiamo Proprio fare Perché non abbiamo L'osso di mostro piccolo Non ce l'abbiamo Possibile Questo però Lo possiamo fare Minerale ferroso Quindi in teoria Se poi ci ripensiamo Dovrebbe ridarcela Eh Spendiamo dei soldi Però Ci sta Proviamo Dai Eh Dobbiamo iniziare Un po' A spippolare Su via Anche se Come dicevo Quest'arma È un po' Da Da vedere Se è giusta Per le nostre Nostro stile Di attacco Però per il momento Qui non Abbiamo Materiali Da poter utilizzare La lista Eh Qua ci sarà Da spippolare Parecchio Ragazzi Catana di ferro Direi di sì Ci sono tantissime cose Da vedere Quindi pian piano Ci Ci faremo le ossa Forge A compagno Personalizzazione Quale Schinzetti Personalizza il Schinzetto Del tuo Falcione In che senso Scusa I falcioni Inzetto Sono usati insieme A un Schinzetto Entrambi possono essere Migliorati indipendentemente Ottieni un nuovo Schinzetto Con Acquista Schinzetto Migliora un Schinzetto Esistente con Rivolvi Schinzetto Progredendo nel gioco Si sbloccherà l'opzione Nel menu Cambio elemento Qui potrai sacrificare Un livello E aggiungere uno Dei seguenti elementi Fuoco Acqua Ghiaccio Tuono O drago Puoi aggiungere Un chinzetto Equipaggia prima Il falcione Inzetto Comunque desideri Accoppiarlo Quindi seleziona Cassa equipaggiamento La voce Ok Noi non ce li abbiamo I chinzetti Eh anche qui Ci sarà da Da spippolare Ci sarà da spippolare Parecchio Va bene Allora ragazzi Onestamente Bonus accesso Ottieni bonus accesso Cioè Allora Sono ora disponibili I contenuti Della collaborazione Con Raison Zero Dawn Ah ok La missione Lezione selvaggia Sarà disponibile Fino all'8 febbraio Quindi questa C'è il sito Ufficiale Per maggiori Informazioni Apprenti aggiuntivi Disponibili Scarica Pettinatura E gesti Classici Gratuiti Ci ha dato Del miele Buoni Buoni mega fortuna Che non so cosa sia Quindi abbiamo Lezione Selvaggia Ok Che dobbiamo cercare Anche Dov'è che si attiva Questa missione Non saprei Poi andremo A vedere Sta di fatto Che adesso Abbiamo un bel po' Di cose Da vedere Ma Al momento Direi che Ci possiamo salutare Qui sperando Che mi faccia salvare Mi fa salvare Sì ok Adesso possiamo salvare Spero che il video Vi sia piaciuto Nel frattempo Qui si è fatto Anche notte E come sempre Ragazzi Fatemi sapere la vostra Lasciate un like E condividete È molto importante Ci sarà molto Ma molto da spippolare In questo gioco Vediamo un pochino Come organizzarci E ci vediamo Al prossimo episodio Come sempre In descrizione Trovate i link A tutti i social Instagram Facebook Twitch per le live Secondo canale Eccetera eccetera Ma noi ci vediamo Alla prossima Con il nostro Manolo Il nostro Poldino Un saluto a tutti Da Queltaleale